il trailer non ha mentito perché questo Mavka la foresta incantata è davvero un bel film da vedere, d'animazione certo per i più piccoli però che ha dei grossi punti a favore riguardo proprio quello che vediamo su schermo ed è interessantissimo certo poi la storia è quella lì pare un po' Avatar con qualche aggiunta sul finale e dispiace perché ogni volta che vedo questi film penso ma perché non farli anche per delle persone un po' più mature ma anche dei 25 anni e non sto dicendo per i 35 anni ma una storia un attimino meno prevedibile e meno legata agli stereotipi del genere sarebbe molto gradito perché quando tu hai questo comparto tecnico ti mangi le mani poi qua lei veniva doppiata Mavka da Fra Frog che sta su youtube che ho visto per sbaglio in un video ecco mi aveva spaventato a saperlo perché dicevo il talent in realtà è stata brava salve sono Arcarina Hammer benvenuti sul mio canale supportatemi per il mio obiettivo quello del 2023 mille iscritti che mi merito perché vi porto tutti i contenuti della settimana al cinema e anche sulle piattaforme e un sacco di playlist anime di The Tick Conan Evangelion Cowboy Bebop e soprattutto autopsia dei film ovvero analisi scena per scena dei film del passato dei cult dei cinefili questo Mavka di che cosa parla? Avatar raga c'è questo mondo fiabesco quasi della foresta che è ci sono questi esseri da film fantasy con le fatine specie di sirene se vogliamo perché si trasformano sono questi elementi sovrannaturali che se attaccati però mostrano il peggio però sono sono pucciosi carini c'è il gatto rana insomma c'è Mavka che è questa ninfa che deve proteggere questa foresta che è in pace in armonia proprio nel giorno in cui si deve eleggere il nuovo leader che ha i poteri che la foresta dona a questo prescelto fra i tanti va bene però qua ovviamente c'è il collegamento con con la vita di un popolo degli umani che arrivano in quella foresta per rubare l'albero della vita quindi è Avatar ma il fulcro è su Mavka come dice il titolo ovvero su di lei che vuole entrare in contatto con questi umani in qualche modo attraverso la storia d'amore certo ma anche in altri modi dando così significati ecologisti in primis ma di inclusione quindi inclusività avvicinarsi al diverso con un finale sorprendente per alcuni punti sotto alcuni punti di vista la storia come detto brilla sul finale basta cioè convincente sul finale basta perché prima è un po' stantia come Avatar il buono che è costretto ad andare nella foresta a fare qualcosa di male ma lui non vorrebbe per cui questa ninfa lo capisce subito che lui è buono perché lei è la più ingenua di questa foresta eccetera eccetera quindi c'è l'innamoramento poi si scopre lui che è stato costretto a lavorare per la cattiva che è quella che vuole questa sostanza ma ovviamente per arricchirsi ma viene coinvolto anche il popolo che ha le superstizioni su questa foresta perché come dice il prologo anni prima c'è stata una guerra quindi è chiaramente prevedibile un po' l'Avatar sul finale non si può dire che cambi il contenuto perché è un finale buonista per i bambini ma c'è una scelta che ho apprezzato dal punto di vista dell'animazione splendido perché coloratissimo certo animazione di altissimo livello i volti sono fluidissimi i modelli sono bellissimi da vedere è tutto molto fatato è davvero interessante certo non ha risvolti bartoniani quindi non c'è quel tipo di disegno che magari ad alcuni può piacere animazione che può piacere un po' più distorta è molto classico però davvero bello da vedere i colori funzionano e i passaggi narrativi sono ben scanditi benché prevedibili quindi il montaggio funziona perfettamente le voci vanno bene sono doppiate bene anche fra frog al massimo mi ha stonato la canzone che c'è a tre quarti vi dico la verità che è pop in un contesto fatato ma per il resto è un film godibilissimo la storia è davvero scorrevole facile da capire prevedibile però è narrata con tutti i crismi quindi alla fine se uno va oltre la prevedibilità può anche apprezzarla detto questo ve lo consiglio soprattutto se avete bambini nipotini eccetera se no anche se non avete niente da fare avete un'ora e mezza libera perché dura poco poi il giusto andateci ciao 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 Grazie a tutti.